donazione di se stessi. Figlia mia, eccomi per istruirti. Ti accompagno dovunque vai. Ti sono vicino con la premura del migliore dei padri e con l'affetto di una madre veglio su di te. Se ti abbandoni completamente a me, io agisco. Penso. Parlo in te. Allora tutto assume un valore divino e una perfezione altissima. Ecco perché ti invito a rinnovare spesso la tua donazione completa a me e a invitarmi a sostituirti. Tu vivi già in me, come il pesce vive nell'acqua in cui è immerso. Ma io godo di essere invitato dai miei figli a sostituirli in tutto. La mia volontà è il tuo sommo bene. È la tua perfezione e la tua felicità. Non ti resta che aderire ad essa per raggiungere le più alte vette. Ti metto nel cuore desideri di bontà e di carità. Se tu mi assecondi e compi ciò che ti vado suggerendo. Ripeti nella tua vita ciò che io facevo nelle vie della Palestina. Tu passi facendo del bene. Anche di mia madre si sarebbe potuto e si può dire così. Ella passò compiendo del bene. Non operò miracoli clamorosi ma miracoli di bontà ed amore. Dovunque c'era una lacrima da asciugare. Un conforto da dare. Un aiuto da prestare. Ella era là e seminava pace e gioia. Molte volte mi parlava dei suoi amici. I sofferenti. E me li presentava appena ne aveva l'occasione. Perché io operassi per loro miracolo. Tutto faceva con grande umiltà e semplicità. Cosicché tutto in lei diventava come una cosa comune e naturale. Comportati anche tu così. Imita mia madre perché anche di te si possa dire. Passò facendo del bene. E la tua vita sia in benedizione per tutti.